www.fipili.com e rallentamenti tra l'Astra Signa e l'Allacciamento 1 Firenze-Scandici in direzione Firenze. Personale su strada per lavori in direzione Mare tra Livorno Aurelia e Livorno Porto. Per quanto riguarda la viabilità cittadina, a Firenze, per i lavori della tramvia, in piazza Dalmazia fino al 29 novembre, restringimenti all'intersezione con via Mariti. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!